Soddisfatto perché quello che avevamo provato stamattina e ieri è venuto. Quindi sono contento, c'è una grande predisposizione al lavoro, c'è la voglia di fare bene, c'è molto da lavorare, ma a me il lavoro non mi fa paura, anzi, sono molto contento di lavorare. C'è grande entusiasmo e questo ne sono felice, però dico anche alla gente di tenerlo nei momenti particolari che verranno in Serie B, di tenere questo entusiasmo perché i ragazzi, la società e io ne abbiamo tutti bisogno. Sì, Ministro, abbiamo visto anche, nonostante il gran caldo, molto impegno, no? Questa è la prima cosa che già dalla conferenza l'hai chiesto, penso sia soddisfatto dell'approccio della squadra a ritiro. Moltissimo, ho detto che nonostante che c'è questo gran caldo e non è favorevole per lavorare, nonostante che stamattina e ieri abbiamo fatto due ore al giorno di lavoro, oggi c'è stato un impegno massimo e questo mi fa ben sperare. Se il mattino si vede così, vuol dire che noi avremo voglia di lavorare per tutto l'anno e questa è un po' la mia prerogativa. Dovremo uscire dal campo sconfitti, ma avendo dato tutto e quando si esce dal campo avendo dato tutto bisogna qualche volta anche applaudire l'avversario. Questo dovrà avvenire poche volte per la mia concezione di come vedo la sconfitta. Però potrà succedere, però usciremo dal campo avendo dato tutto e molte volte l'avversario è più bravo di te. Abbiamo visto già qualche cambio di modulo in corsa, ancora è presto, però già due moduli oggi li abbiamo visti. Si è iniziato 4-3-1-2 e poi 4-2-3-1 nel finale. Sì, anche perché nel finale avevo ragazzi che è giusto mettere nelle condizioni di esprimere le proprie potenzialità. Visconti e Drolè, fagli fare la mezzala, mi sembrava. Siamo partiti così dopo 5 minuti, ho chiesto di allargarsi sulle fasce e sono due giocatori che giocando nell'uno contro uno nello spazio possono veramente dare fastidio anche agli avversari. Poi sono due giovani quindi è giusto anche lavorarci. L'ultima cosa è un pensiero al suo collaboratore a Tardioli per questo lutto doloroso. È una cosa che mi rattrista enormemente, io sono molto legato alla famiglia, ai miei collaboratori, sono diventati come i miei fratelli, i miei parenti, quindi in questo momento sono con loro nel dolore, gli faccio le più sentite condoneanze, gli dico di stare tranquillo, di stare vicino alla sua famiglia. Quando vorrà tornare qui in ritiro deve essere molto sereno, stare vicino ai suoi familiari e di stare tranquillo anche se perderà 7-8 giorni di ritiro.